Negli ultimi anni si è assistito in Italia ad un continuo proliferare di nuove aperture di questa tipologia di attività. Probabilmente un margine di guadagno elevato, un ridotto controllo dell'operato e vincoli pressoché minimi per l'apertura di queste attività associati anche alla forte crisi economica che gli italiani hanno dovuto affrontare, sono state forse le principali cause per quello che è stato definito un vero e proprio boom. Come rispondete alle critiche che vedono nei comproro dei possibili luoghi in cui si annidano attività criminali o di riciclaggio? Sì, in tutte le attività dove c'è profitto purtroppo si annida un po' di malaffare. Arriva questo disegno di legge che prevede una serie di capisaldi. professionalità e vaglio della professionalità obbligatorio prima che si rilasci la licenza. L'iscrizione obbligatoria in Camera di Commercio deve comportare controlli automatici che oggi si fermano alla taratura delle bilance ma che sono episodici e dando poteri di polizia, in questo caso, ai funzionari della Camera di Commercio. L'emissione di documenti fiscali oggi non prevista, sceleratamente dalla legge, perché qui si giustifica col fatto che il comproro dice io compro, non vendo e quindi perché devo fare lo scontrino? Quindi l'assoggettamento agli obblighi fiscali perché c'è una grossa laguna normativa. L'escrizione obbligatoria